Auletta, come gli altri comuni del Vallo di Diano interessati, non è più zona rossa da qualche giorno. La mancata proroga dell'ordinanza regionale ha portato alla rimozione dei blocchi in cemento che erano stati posizionati all'ingresso delle città, ma secondo l'amministrazione comunale non cambia nulla. Occorre continuare ad osservare il massimo di attenzione. Tolta la zona rossa, le strade sono libere, alcuni corriri vengono a consegnare di nuovo da furi perché gli ordini online ti dicevano proprio zona rossa, quindi bloccati. I cittadini sempre per motivi di necessità possono andare a fare la spesa, mentre prima era preferibile che c'era un'organizzazione con la protezione civile oppure se stessi negozianti. Diciamo che ora siamo alla pari di tutti. Stare in casa, stare in casa sempre perché il virus ancora è tra noi, è ambiguo ed è inaguato, però torniamo a una sorta di normalità. Credo che era doveroso cominciare man mano ad aprire. Lo sta chiedendo il governo, lo sta dimostrando il governo e quindi dobbiamo essere attenti anche come istituzione locale a controllare i cittadini con la protezione civile, con la polizia municipale e anche con i carabinieri che hanno fatto un lavoro egregio. Dobbiamo essere bravi, ripeto, a controllare, però era doveroso cominciare ad aprire qualcosa. Sia il vicesindaco che il sindaco Pestolano sono guariti dal coronavirus e da Oletta la situazione contagi sta facendo registrare notizie positive. Preoccupa invece l'economia ed il rapporto con l'agricoltura con adesso che lancia un appello. Abbiamo delle difficoltà e faccio un appello, se possibile, anche alle istituzioni, al presidente della regione, al presidente Conte. Qui è una zona rurale, si vive di agricoltura, anche i nostri cittadini che hanno un orto ad un chilometro da casa hanno difficoltà ad andare perché secondo queste norme non si può uscire, non si può andare nemmeno nella propria campagna se non sei un imprenditore agricolo in conto proprio, questo l'abbiamo chiarito. Però qui ognuno ha una piccola campagna e sinceramente andare in campagna un'unica persona con un mezzo agricolo o se ci vai in due con le dovute attenzioni in macchina ma sempre tua moglie o un familiare che ci convivi in casa non è un maggiore contagio perché con quella persona già ci vivi in casa. Intanto c'è anche il carciofo bianco insomma che va tutelato. Stavamo programmando la festa del carciofo è veramente qualcosa di noi di bello e ci dava onore un paese pieno e ci è dispiaciuto tanto. Gli agricoltori hanno il prodotto pronto abbiamo il prodotto pronto nei campi chi più e chi meno rispetto all'esposizione solare il carciofo sta salendo le mammarelle, i primi, i secondi pezzi, le seconde poi man mano i figli che si fanno i carciofini sott'olio e per noi tutto questo risulta stranissimo dover bloccare le attività guardate una botta psicologica per tutti credo.